ciao vediamo altri due modifier che un pochino si somigliano i modifier multiple strokes e modifier outline devo disegnare qualcosa prima quindi prendo ink pen traccio dei segni multiple strokes ripete i segni quindi vedete ha fatto tre duplicati potrebbero essere 2 3 4 5 lì si può distanziare tra di loro di una certa distanza e offset è se devono essere verso l'interno verso l'esterno rispetto all'originale guardate lo disattivo questo è l'originale adesso sono tutti verso l'esterno se lo metto a meno uno sono tutti verso l'interno e normalmente sta a zero che vuol dire che li crea attorno un po di qua un po di là se fossero il numero dispari chiaramente quello in mezzo è esattamente il segno originale quindi questo crea dei duplicati del segno può avere appunto anche questo degli usi stilistici in particolare se poi vado a utilizzare fade fade serve a farli sfumare quindi mettiamone 5 giusto per vederlo un po meglio allora 5 e quindi se attivo fade vedete che sfumano via come thickness e anche come opacity se io aumento opacity a 1 significa in pratica che lo vedo zoomando che quello in mezzo ha ancora la massima opacità mentre invece l'ultimo è molto meno opaco se lo faccio anche per thickness vedete che anche lo spessore si riduce andando con questo center decido dove avviene questo se all'inizio o alla fine se questa sfumatura deve avvenire all'inizio alla fine quindi con 0,5 è esattamente quello in mezzo e quindi nel caso di 7 duplicati vedete lo si vede bene se a 0 è il primo e uno è l'ultimo quindi anche questo può avere uno scopo artistico vedete quando cominciano ad essere tantini creano un certo stile diciamo immaginate appunto come sempre che questa cosa può essere animata quindi come io qua adesso lo vedo che si muove mi crea questo effetto un po optical potrei anche animare questo valore e quindi avere questa sensazione nel mio disegno invece il outline come si vede nel disegnino crea il bordo attorno al segno e quindi diciamo che è un po più comprensibile se il segno fosse più grosso sappiamo che possiamo cambiarlo lo spessore con thickness l'abbiamo visto in un altro video quindi se io metto thickness e faccio 5 ecco adesso il segno è cinque volte più grosso se disabilito outline eccolo qua e rimetto outline e vedete ha disegnato il bordo del mio segno e posso decidere qui lo spessore di questo nuovo segno che è il bordo del mio segno e quindi in questo modo diciamo è più facile fare delle linee doppie perché posso tracciare una e ottenere quindi lo spessore diciamo del suo contenuto tra l'altro posso cambiare il materiale quindi per esempio posso disegnarle con questo materiale adesso questo è un po strano però come al solito se noi ci creiamo un altro materiale parto da solid stroke lo duplico e gli cambio colore in un blu adesso qua lo scelgo ed ecco che il bordo è creato di colore di colore azzurro ho dei parametri suddivisioni e in pratica se lo metto a zero come vedete il segno è molto meno morbido in questo modo si ammorbidisce e anche sample length in pratica aumenta la lunghezza nella quale viene calcolato questo bordo e quindi più è alto questo valore più il risultato sarà spigoloso però anche questo potrebbe essere qualcosa che desidero insomma la comodità adesso è che però se disegno quello che disegno diventa automaticamente un bordo diventa più pratico disegnare certe cose con la linea doppia come tutti i modifier possono essere applicati in object mode vado prima ad applicare thickness e poi vado ad applicare questo ed ecco che adesso questi sono effettivamente i miei segni e quindi se andassi in sculpt mode e uso pinch con il meno posso come vedete per esempio allargare lo spazio comunque insomma sono diventati dei segni autonomi e quindi dopo aver applicato questi segni possono essere modificati ognuno per conto proprio è un modo per ottenere quindi questi segni sia che io li voglia tenere dinamici mantenendo il modifier sia che li voglia applicare posso avere questi segni doppi quindi sono diversi multiple strokes e outline outline è nuovo ha la sua utilità diciamo nel creare un bordino grazie e alla prossima